Siete all'ascolto di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne. Frequenza 87,6 MHz. Sono Elena Prizzi. Cari ascoltatori, bentornati alla rubrica dedicata all'importanza delle fiabe delle favole per la educazione dei bambini. Oggi racconteremo più storie che non appartengono al mondo della fantasia, bensì alla storia della nostra Italia. Oggi, infatti, 4 novembre, si festeggiano più ricorrenze nazionali. San Carlo Borromeo, ma anche la festa dell'unità e delle forze armate. Il 4 novembre 1918 aveva infatti termine finalmente il primo conflitto mondiale, la Grande Guerra, un evento che ha segnato in modo profondo e indelebile l'inizio del Novecento e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali. La data, che celebra la fine vittoriosa della guerra, commemora la firma dell'armistizio, siglato a Villa Giusti, Padova, con l'impero austro-ungarico, ed è divenuta la giornata dedicata alle forze armate. In questa giornata si intende ricordare in special modo tutti coloro, che anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere. Valori mutati nel tempo che i nostri militari ancora oggi portano avanti. Quanti figli l'Abruzzo, come altre regioni, ha dato alle guerre nazionali e quanta storia è passata da questa regione. Storie di vita, appunto, che hanno arricchito le generazioni successive di insegnamenti e valori, come la nostra, che è bene mantenere vivi neanche nei più giovani. Dalle storie umane vicine, infatti, si impara molto e si educa tantissimo. È utile anche ricordare che la figura dei cappellani militari, ovvero dei religiosi che seguono le truppe, nacquero proprio durante la Prima Guerra Mondiale, e che Papa Giovanni XXIII, il santo Giovanni XXIII, venne dichiarato tale proprio per il suo operato come cappellano militare durante la Prima Guerra, ed è stato nominato santo patrono dell'esercito. Da un punto di vista religioso, però, la giornata di oggi è dedicata e merita tanto spazio il santo San Carlo Borromeo, che è stato tra i più grandi vescovi della storia della Chiesa. Grande nella carità, grande nella dottrina, grande nell'apostolato, ma soprattutto grande nella pietà e nella devozione. Diceva il santo, le anime si conquistano con le ginocchia. Si conquistano, cioè, con la preghiera e preghiera umile. San Carlo fu uno dei maggiori conquistatori d'anime di tutti i tempi. Ma chi era come personaggio? Era nato nel 1538 ad Arona, sulla rocca di Borromeo, padroni del Lago Maggiore e delle terre riverasche. Era il secondo figlio del conte Giberto e quindi, secondo l'uso di quei tempi, fu tonsurato a 12 anni. Il giovane prese la cosa sul serio. Studente a Pavia dette subito prova delle sue doti intellettuali. Chiamata a Roma, venne creato cardinale a 22 anni. Gli onori e le prebende piovero abbondanti sul suo capo, poiché il papa Pio IV era suo zio. Amante dello studio, fondò un'accademia, secondo l'uso dei tempi, detta delle notti vaticane. Inviato al concilio di Trento, fu indispensabile con il suo operato per attuare le direttive conciliari. Si rivelò anche un lavoratore e formidabile, un vero forzato della carta e della penna. Nel 1562, morto il fratello maggiore, avrebbe potuto chiedere la secolarizzazione per mettersi a capo della sua potente famiglia. Restò invece nello stato ecclesiastico e fu consacrato vescovo nel 1563, a soli 25 anni. Entrò così trionfalmente a Milano, destinata ad essere il campo della sua attività apostolica. La sua arcidiocesi, a contrario di quanto potremmo pensare oggi, era vasta come un regno, perché si estendeva lungo le terre della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, della Liguria e della Svizzera. Il giovane vescovo visitò ogni angolo delle sue terre, preoccupato della formazione del clero e delle condizioni dei fedeli. Fondò seminari, edificò ospedali ed ospizi. Profuse a piene mani le ricchezze della sua famiglia in favore dei poveri, e nello stesso tempo difese i diritti della Chiesa contro i signorotti e i potenti. Riportò l'ordine e la disciplina nei conventi, con un tale rigore da buscarsi addirittura un colpo d'archibugio, sparato da un frate indegno, mentre stava pregando nella sua cappella. La palla dell'archibugio, per fortuna, non lo colpì, nonostante la sua mantella rimase forata all'altezza della spina dorsale. La cosa fu vista come un segno di Dio, il quale voleva che il vescovo realizzasse alcune delle sue opere più importanti. Il foro della mantella divenne la più bella decorazione dell'arcivescovo di Milano. Durante la terribile peste del 1576, quella stessa mantella divenne coperta per i malati, assistiti personalmente dal cardinale arcivescovo. L'attività di San Carlo Borromeo fu prodigiosa. Tanto venne apprezzato come organizzatore che ispiratore di confraterniti religiose, di opere pie e di istituti benefici. Milano, durante il suo episcopato, rifulse su tutte le altre città italiane. Da Roma, i santi della riforma cattolica guardavano ammirati e consolati al Borromeo, modello per tutti i vescovi. Ma per quanto robusta, la sua fibra era sottoposta a una fatica troppo grave. Bruciato dalla febbre, continuò le sue visite pastorali senza mangiare, senza dormire, ma solamente pregando e insegnando. Fino all'ultimo, continuò a seguire personalmente le sue fondazioni, contrassegnate da una sola parola. L'umiltà. Il 3 novembre 1584, il titanico vescovo di Milano crollò sotto il peso della sua insostenibile stanchezza. Aveva 46 anni e lasciava ai milanesi ricordo di una santità seconda soltanto a quella di un altro vescovo milanese, Sant'Ambrogio. A Darona, oggi, sul lago Maggiore, città natale, dicevamo, di San Carlo Borromeo, si erge un colosso in lastre di rame e bronzo, costruito in suo ricordo nel 1697, da Bernardo Falconi e Siro Zanelli, su modelli del Cerano. La statua è alta 23,40 metri, al di sopra di un piedistallo di 11,70 metri. L'interno del cosiddetto San Carlone di questa statua monumentale dedicata a San Carlo Borromeo è visitabile e vi sono due scalette che portano in diversi punti della testa. Una curiosità che è collegata a questa statua così imponente è che dopo due secoli dalla sua costruzione veniva assemblata in New York la Statua della Libertà, progettata da Bartoldi e realizzata, come sappiamo, da Gustavo Eiffel. Due furono le fonti di ispirazioni per il progetto new yorkese della Statua della Libertà, il Colosso di Rodi, conosciuto solo nei racconti dell'antichità, e il Colosso di San Carlo Borromeo, proprio di Arona. Infatti ricordiamo che nel 1697 era stata edificata questa statua dalle dimensioni incredibili e che, ciò nonostante, risultano essere dimezzate rispetto a quella della Statua della Libertà di New York. Dunque, diciamo che davanti al racconto di vita così incredibile di San Carlo Borromeo, che vale sicuramente più di tante favole, non dobbiamo comunque venire meno al nostro appuntamento con gli ascoltatori più giovani. Ecco perché, dopo l'intervallo, leggeremo una fiaba di Esopo, dedicata alla giornata di oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E come fanno tutti i re, diramo un bando fra tutti gli animali suoi sudditi. Gli animali, diceva il bando, vengano da ogni parte della foresta per aiutare il loro re. Vengano tutti senza nessuna esclusione, ovviamente per prendere parte alla guerra. Vennero tutti dai più grandi ai più piccini. Tutti erano stati invitati perché il leone aveva detto che tutti avrebbero avuto un compito in guerra. E quando tutti gli animali furono riuniti davanti al re e ai suoi ministri, il leone cominciò a segnare a ognuno il proprio compito. disse all'elefante, tu hai molta forza, combatterai, ma porterai anche l'artiglieria e tutto quello che occorre ai tuoi compagni. Poi disse alla volpe, tu che sei la più furba degli animali, mi aiuterai a ingannare il nemico. E tu, disse all'orso, che sei forte e agile, sarai utile quando dovremo salire le fortezze. Scavalcherai infatti le mura e conquisterai in breve tempo la città. Ad uno ad uno il leone chiamò tutti gli animali e trovò per ognuno un compito preciso per questa guerra che stava per iniziare. Quando comparvero davanti al re gli asini e le lepri, i ministri e i consiglieri dissero al re leone, «Questi sono animali inutili per la nostra guerra. Gli asini, si sa, sono sciocchi e le lepri paurose e timide. Cosa ne facciamo? Mandiamoli pura via!» Ma il leone rispose ai suoi consiglieri e ministri «L'asino ha una voce più forte della mia. Sarà un'ottima tromba per chiamare a raccolto i soldati. La lepra, invece, è velocissima e porterai messaggi da un luogo all'altro. Il leone, che era saggio, sapeva bene che tutti erano utili e infatti disse «Dovete imparare che tutte le creature sono utili, se usate inoltre al momento opportuno e sfruttando di ognuna di esse le loro capacità». Grazie per l'ascolto. Grazie per l'ascolto. Grazie per l'ascolto.